Si riparte finalmente. Non vedo l'ora di tornare a coccolare il pubblico, di fargli dimenticare ogni problema per due ore. Divertimento puro, ce lo meritiamo, e nel caso in cui comunque lo spettacolo non piaccia, tranquilli perché nel lockdown ho imparato a fare le pizze, almeno, alla fine, si mangia. Parole di Giovanni Vernia che torna in scena venerdì 14 gennaio al Teatro Pasta di Saronno con uno spettacolo tutto da ascoltare, vivere e sghignazzare, un esercizio di ironica intelligenza, carismatica e scatenata che il mitico Johnny Groove ha scritto insieme a Paolo Uzzi e Giampiero Solari. Per accedere allo show, lo ricordiamo, sono richiesti Green Pass rafforzato e mascherina FFP2. Fanno Tai Chi nel bairo. Non so se sono Giovanni Vernia o non sono Giovanni Vernia. Andiamo alle Piava. Sono le 11 di sette. E' presto, figa, andiamo!